Buongiorno a tutti, allora non vi sto a far vedere per il quarto video di fila la magliettina, ve la farò vedere nei prossimi giorni nuovamente, quindi domani, dopodomani eccetera eccetera, ma non sto a farvela vedere in tutti i video perché sennò mi mandate anche a full. Comunque, dopo le news arrivano naturalmente le call news. Di che cosa parleremo? Parleremo di perseveranza, che non vuol dire il termine perseveranza, ma è il nome di un coso, chiamiamolo così, di un coso che sta facendo una missione nello spazio, su un pianeta e sta scoprendo tante 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 cosine interessanti e infatti è una notizia bella lunga. Poi parleremo della nostra, del nostro pianeta ragazzoli, perché no? E' anche bello parlare del nostro pianeta, qua mi si è incasinato tutto, ah beh tanto non mi serve. Quindi parleremo del nostro pianeta, pianeta terra, andremo indietro nel tempo o avanti, chi lo sa. Infine parleremo dei nostri amici a quattro zampe. E hanno fatto un piccolo esperimento curioso di cui vi voglio accennare la cosa. Detto questo, vediamo se riesco a fare così. No, non, boh. Mi fermo un attimo perché mi ha dato in tilt il computer e ho da evitare disaster e poi partiamo. Bene, 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 possiamo proseguire. Prima notiziola, vi parlavo di Perseveranza, perché è il nome di... In attesa di ulteriori analisi sulla Terra, gli strumenti del rover Perseverance, quindi Perseveranza, iniziano a tracciare la storia dell'acqua di Marte, perché sapete il rover ormai è un annetto più o meno che è su Marte, che gironzola. Il rover Perseverance ha appena completato il suo primo anno di esplorazione del cratere IE0 su Marte. Pensate, un anno per esplorare un cratere, quindi figuratevi esplorare tutta Marte quanto ci vorrà. Un periodo durante il quale il veicolo della NASA ha raccolto campioni che riveleranno finalmente la storia geologica del pianeta rosso. Anche se ci vorrà ancora un decennio per trovare tutte le risposte, fino a quando i campioni non saranno raccolti dalla superficie marziana e riportati sulla Terra nel 2033, buonanotte, gli scienziati sono entusiasti dei dati che sono stati in grado di estrarre finora in sito, grazie alla strumentazione del rover. I risultati sono stati dettagliati nel mese di giugno, fine giugno, in quattro articoli, due dei quali pubblicati su Shens e altri due su Shens Advance. Situato a nord dell'equatore marziano, il cratere 10.0 è stato scelto come obiettivo dalla NASA perché conteneva quello che sembrava essere il delta di un antico fiume formatosi nel letto di un lago, quindi in grado di fornire dati preziosi su quando l'acqua scorreva. Secondo David Shuster dell'Università della California, e uno degli autori principali, le rocce raccolte dal fondo del cratere da Perseverance sono alla base dei sedimenti delta, quindi la loro età fornirà un limite superiore all'età di formazione del cratere. Secondo Shuster, la sorpresa principale è stata che le rocce raccolte da quattro diversi siti nel cratere IE0 si sono rivelate rocce igne, cioè formate dal raffreddamento del magma fuso, le migliori per elaborare una cronologia accurata una volta prelevati e portati sulla Terra. Queste rocce mostrano anche prove dell'alterazione dell'acqua. Dal punto di vista del campionamento, spiega Shuster, questo indizio è importante perché aiuta a capire le condizioni ambientali che avrebbero potuto sostenere la vita. Quelle rocce igne, in effetti, conservano informazioni precise su quando esattamente c'era un lago a IE0. Sappiamo che il lago era lì dopo la formazione delle rocce igne, afferma Kenneth Farley, un altro degli autori della ricerca. E questo ci permetterà di affrontare alcune importanti domande. Quando il clima di Marte è stato favorevole alla formazione di laghi e fiumi sulla superficie del pianeta, punto di Moomanda, prima della missione i geologhi si aspettavano che il fondo del cratere fosse riempito di sedimenti o lava, roccia fusa che si riversava in superficie e si raffreddava rapidamente. Ma in due luoghi conosciuti come seita, una parola nafaco che significa in mezzo alla sabbia, le rocce sembrano essersi formate sottoterra e poi raffreddarsi lentamente. Naturalmente ciò che li copriva è stato eroso negli ultimi 2,5-3,5 miliardi di anni. Minchia, scusate il francesismo, cioè io quando leggo queste cose qua a due miliardi e mezzo di anni, noi esistiamo da 400.000 anni esagerando e forse forse le prime persone che hanno iniziato ad avere un dialogo che non fosse gutturale, dovremmo andare indietro intorno a 80.000, 60.000 anni fa, questi parlano di 3 miliardi e mezzo di anni come bere un bicchier d'acqua. Comunque proseguiamo perché Farley dice «Letteralmente, per i primi nove mesi, mentre guidavamo il rover attraverso il fondo del cratere, stavamo discutendo se le rocce che stavamo vedendo fossero sedimenti depositati in un lago o rocce igne. E infatti sono rocce igne. E la forma di quelle rocce igne è piuttosto sorprendente, perché non sembrano semplici rocce vulcaniche che sono sfociate nel cratere. Invece sembrano qualcosa che si è formato in profondità e si è gradualmente raffreddato in una camera magmatica più grande. La struttura cristallina della roccia ignea, simile al granito della Sierra Nevada, ma con una composizione diversa e una grana molto più fine, mostrava grani di olivina di dimensioni millimetriche intervallate da pirosseno, che può essersi formato solo per lento raffreddamento. L'olivina a grana grossa è simile a quella vista in alcuni meteoriti che si pensano abbiano avuto origine su Marte e alla fine si siano schiantati sulla Terra, scusate il bronco di riace. I dati a supporto di questa idea provengono dall'imaging multispettrale e dall'analisi della fluorescenza a raggi X effettuata con gli strumenti a bordo di Perseverance e sono dettagliati nel secondo articolo di Shens, autore principale Yang Liu, geologo planetario del GPL, Jet Propulsion Laboratory. Un anno di esplorazione su Marte, ecco cosa scoperto finora Perseverance. Secondo Schuster, i dati raccolti finora da Perseverance consentono due diversi scenari per spiegare le rocce igne. O la roccia si è raffreddata sottoterra e si è in qualche modo sollevata dalla superficie, oppure c'era qualcosa come un lago di magma che ha riempito il cratere. Era raffreddato gradualmente. Anche i campioni ottenuti dal rover in un secondo sito vicino chiamato Maaz sono ignei, ma di composizione diversa. Poiché questo strato sovrasta allo strato di roccia igna e sposta a Seita, la roccia Maaz potrebbe essere stata lo strato superiore del lago di magma. Dei laghi di magma della terra, i minerali più densi si depositano sul fondo, mentre cristallizzano e creano strati di diverse composizioni. Questi tipi di formazioni igne sono detti accresciuti, nel senso che sono stati formati dalla decantazione di olivina arricchita di ferro e magnesio e dal successivo raffreddamento a più stadi di uno spesso corpo di magma. Ma c'è anche la possibilità che le rocce magmatiche di Maaz provengano da una successiva eruzione vulcanica. In ogni caso, dice Schuster, lo strato superiore che è stato parzialmente eroso potrebbe essere spesso dell'ordine di centinaia di metri. Sia le rocce a raffreddamento lento di Seita che quelle di Maaz a raffreddamento più rapido mostravano un tratto comune e entrambe sono state alterate dall'acqua, anche se in modi diversi. Le rocce Maaz contengono sacche di minerali che potrebbero essersi condessate dalla salamoia, mentre le rocce Seita hanno reagito con acqua gassata secondo le analisi chimiche a bordo del rover. I tempi precisi in cui questi vari strati si sono formati saranno rivelati solo da analisi di laboratorio sulla Terra, poiché gli strumenti di analisi geochimica necessari per l'adattazione sono troppo grandi per essere collocati a bordo di Perseverance. C'è una grande varietà di osservazioni geochimiche che possiamo fare su queste rocce quando le riporteremo sulla Terra, afferma Schuster. Questo ci darà tutti i tipi di informazioni sull'ambiente. Potremo scoprire quando la roccia si è cristallizzata, che è una delle cose che più mi emoziona. Saranno inclusi anche campioni di sedimenti recentemente raccolti dal Delta stesso, i cui dettagli sono in preparazione per un futuro articolo scientifico. Beh, devo dire che la missione di Perseverance sta funzionando, è lì da un anno, raccoglie cose su cose. Poi vedremo se riuscirà ad uscire dal cratere, andare a farsi un altro giro per Marte, andare a raccogliere altri campioni, altre cose. e soprattutto sono curioso di vedere se lo vanno a prendere con un'altra missione su misura nel 2025, 26, 27, perché ora che poi arrivano su Marte ci vogliono anni, o se sarà proprio Perseverance a prendere, accendere il motore e tornarsene per i fatti suoi. Vedremo se nel 2033 ci sarò ancora, magari ve ne parlerò ancora. Per ora non ci penso, siamo solo nel 2023. Io preferisco stare day by day oramai, vivo day by day. Ma da Marte, scusate il bronco di Riace sempre, torniamo sulla Terra e parliamo del nostro pianetone, la vita complessa sul nostro pianeta esiste da almeno 400 milioni di anni. Nero Bettina tuttavia come specie siamo riusciti a creare una civiltà industriale solo circa 300 anni fa. Ma cosa sarebbe accaduto se sulla Terra fosse assistita una civiltà industriale precedente risalente a milioni di anni fa? come potremmo dimostrarne o smentirne l'esistenza? Questo è il nocciolo o il nocciolo dell'ipotesi siluriana, un affascinante esperimento mentale apparsa in uno studio pubblicato nel 2018 sull'International Journal of Astrobiology. La possibilità di vita altrove nell'universo e i suoi paralleli con l'antropocene l'attuale epoca geologica durante la quale il nostro pianeta sta venendo segnato dalla nostra esistenza fino al punto di non ritorno ha a lungo perplesso Adam Frank professore di astrofisica all'Università di Rochester New York e uno dei due attori dello studio è comune per qualsiasi civiltà che raggiunge il nostro livello di consumo energetico innescare la propria versione del cambiamento climatico punto di domanda mi chiedevo se ci sono civiltà aliene avranno innescato anche loro un cambiamento climatico punto di domanda questa è la riflessione di questo scienziato Frank con questo turmine di pensieri in mente Frank ha visitato il Goddard Institute of Space Science della NASA una struttura di scienze del clima presso l'Università della Columbia sempre New York voleva condividere i suoi pensieri con i ricercatori sul clima e sicuramente si aspettava molte sopracciglia alzate e sguardi scettici nel processo sono andato all'incontro con Gavina Smith un climatologo direttore del GSS della NASA e ho iniziato a parlare di alieni e poi Gavi mi ha fermato e ha detto aspetta un secondo come fai a sapere che rappresentiamo l'unica civiltà mai apparsa sul nostro pianeta racconta Frank in un'intervista a Popular Mechanics la domanda è stata una rivelazione per Frank soprattutto perché gli ha permesso di prendere in considerazione la rivisitazione di fatti che aveva dato per scontati ma vedremo cosa combineranno eccetera eccetera però chi lo sa chi lo sa sembrerebbe di no dai reperti che stiamo trovando anche di 60 e passa milioni di anni fa sembra che però ci sono anche dei reperti che lasciano abbastanza basiti tipo il il cellulare di 2000 anni fa quel video che vi ho fatto un mesetto fa più o meno forse anche di più ormai ho perso il conto in cui hanno trovato in una tomba di una donna questo oggetto che sembrava quasi venuto dal presente non dal passato anche se era fatto antico però ricordava molto uno smartphone vabbè dopo aver parlato di Terra allora intanto dobbiamo ringraziare Scienze e Notizie per tutte e due le notizie che vi ho appena dato perché vedendo come è strutturato si è di Scienze e Notizie entrambi mentre invece il prossimo video il prossimo è ancora di Scienze e Notizie perché a volte i cani quando viene loro rivolta la parola inclinano la testa in uno dei gesti più adorabili mai compiuti da un essere vivente punto di domanda purtroppo la risposta perché così diventano più adorabili non è valida ci deve essere un motivo dietro questo comportamento così hanno pensato gli autori di uno studio pubblicato su Animal Cognition intitolato Analisi preliminare dell'atto di inclinare la testa dei cani si tratta di una sorta di spin off di un altro studio di cui avevamo parlato tempo fa ma che non ho ripreso e che ha visto coinvolto un campione di 40 cani e relativi padroni osservati con particolare attenzione durante i test principali e praticamente è venuto fuori che ci sono 33 cani normali e 7 cani geni di quei 40 cani 33 erano cani domestici addestrati per 3 mesi ad associare certe parole e certi oggetti in sostanza a imparare i nomi dei loro giocattoli e quindi a reagire di fronte al suono di una voce umana che li pronuncia gli altri 7 non hanno invece avuto bisogno di preparazione visto che si trattava di cani GW GW L Gifted World Learners ossia esemplari con capacità linguistiche particolarmente sviluppate i cani geniali dello studio di cui vi avevamo già parlato ma era un altro articolo che purtroppo non ho non mi è apparso ecco per intendere o magari mi apparirà prossimamente chi lo sa l'intero gruppo è stato sottoposto ai test di cui vi abbiamo già raccontato durante lo svolgimento degli esercizi ricercatori hanno fatto particolare attenzione alla testa dei cani e alle sue oscillazioni mentre i loro padroni indicavano questo o quel giocattolo chiamandolo per nome hanno misurato quante volte ogni cane inclinava al capo in quale direzione e con quanta intensità quello che hanno scoperto è che i cani gvl superdotati diciamo non nel senso che ci hanno sotto la proboscide ma nel senso che non hanno avuto bisogno di preparazione per riconoscere gli oggetti inclinano la testa molto più profondamente di quelli normali e che la direzione in cui la inclinano verso destra o sinistra non è influenzata dalla posizione della persona che stanno ascoltando in altre parole inclinano la testa sempre nella stessa direzione inoltre i cani conoscevano già i giocattoli dell'esperimento per cui si può escludere anche l'effetto novità secondo i ricercatori la spiegazione è più probabile che i cani inclinino la testa in risposta al suono della voce umana e in particolare al suono di parole familiari come per l'appunto il nome di un giocattolo il gesto sarebbe un segnale di rinnovata attenzione che il cane compie quando sta creando associazioni mentali tra suono e oggetto purtroppo si legge nello studio il campione di questo esperimento è troppo piccolo per poter dare delle risposte definitive gli autori incoraggiano a ripeterlo con molti più cani magari usando anche tecniche di brain imaging per capire meglio cosa succede nel loro cervello quando inclinano la testa è vero è un gesto molto carino molto simpatico tutto quello che volete però anche pro sapere perché un cane fa e poi rizza le orecchie o inclinano la testa destra e sinistra quando tu ci parli o se no a volte ti saltano il braccio e cercano di leccarti la faccia però magari gli dice vai a prendere per esempio c'è un video di una signora anziana seduta c'ha il pastore tedesco gli dice vami a prendere quella cosa lì e lui prende prendergli la porta però non inclina la testa quando la signora gli dice vami a prendere questo questo quell'altro quindi la storia che inclinino la testa quando sentono parlare lascia un po' il tempo che trova però pare che lo facciano non sempre però pare che lo facciano detto questo ragasoli ho concluso il tour de force notturno di di video del gigione adesso me ne vado a dormire domani si riprende con gli orari normali teoricamente alle 17 sarò alla alla favola a lavorare e ripeto spero di finire per mezzanotte e mezza una e non come al solito più tardi perché c'è da guardicchiare le gare delle nazionali femminile che inizia il mondiale e poi naturalmente vi devo anche fare i due video che preparerò probabilmente nel pomeriggio prima di andare a lavorare non li faccio ma preparo già i testi in modo che così quando torno a casa ho una cosa in meno da fare perché sennò c'è anche di andare a cercare stamparli eccetera è vero che sono in cartella però perdo sempre una mezz'oretta anche a fare quello detto questo ci vediamo alla prossima ciao russi Grazie.